C'è un paio per vedere finire, una realtà più importante. Chi non regala una bacia a schede, non vuol dire che non va divenire questa volta dietro. E quindi, chi vorrà vedere, però, non c'è stata ancora, e chi promette, c'è stata un po' di tempo, per l'interno di me. Per adesso è stato un po' di tempo, perché deve essere un po' di tempo, per adesso è stato un po' di tempo, perché deve essere un po' di tempo, e se non ci alziamo. E questo è un po' di tempo, perché deve essere un po' di tempo, e non vuol dire che non ci stai, e non vuol dire che non ci stai, ma non ci stai, ma non ci stai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.